Attraverso un comunicato stampa firmato dal direttore sanitario Mario Minervini, l'Asla Salerno fa chiarezza riguardo la vicenda batterio killer che nelle ultime settimane ha colpito il Maria Santissima Adolorata di Eboli. I due batteri in questione, l'acinetobacter baumani e il clostridum, come dichiarato dal comunicato, non sono risultati presenti nei prelievi straordinari effettuati i giorni 18 e 21 settembre nei reparti di rianimazione di medicina generale del PO di Eboli. Nella nota stampa inoltre viene evidenziato dalla direzione sanitaria che nonostante i tempestivi interventi effettuati per isolare ed eliminare i batteri sulle superfici di un letto di un paziente è stata rilevata la presenza di clostridum perfringens. Di tali infezioni da clostridum denunciate al momento ne sono state dichiarate tre un caso di natura comunitaria e due di natura nosocomiale.